perché è un'associazione giovane è composta tutta da giovani ci credono e quando ha dei problemi basta andare da loro e te li salvano fenimprese tv che bello la mia attività inizia nel 1968 beh io mi rivolgo sempre a una sposa con la quale lavoriamo insieme sul suo look su tutto ciò che il giorno del matrimonio a prescindere dal vestito il vestito lo scegliamo insieme al 50 per cento tante volte ci metto di mio tante volte il 90 per cento della ragazza del cento per cento anche lo sposo sembra meno esigente ma è quello che è più esigente scegliere giovane sposi perché c'è la competenza la professionalità e l'anima che diamo ai nostri clienti